Da lunedì si possono ricevere online e scaricare automaticamente e gratuitamente 14 tipologie di certificati dove prima dovevate andare nel vostro comune. Quindi tutto bene, tutto meraviglioso, no? No, anzi, io sono inc***ato come una vipera. E adesso vi spiego perché. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è ciao internet. Ciao, internet è una notizia, è abbastanza succulenta. Da lunedì l'anagrafe nazionale della popolazione residente va online. Il portale, che è anagrafenazionale.interno.it, è interessante. Consente, infatti, direttamente accedendo tramite Speed, o carta di identità elettronica, credo, di avere a propria disposizione tutta una serie di certificati. Quello di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza aerea, stato civile, stato di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia per i residenzi all'estero, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafo di unione civile e contratto di convivenza. Tutto quindi assolutamente meraviglioso. se non che sono incazzato come una vipera. Anzi, sono incazzato come una vipera. Bisogna mettere il bip. E vi spiego perché, se volete. Il discorso è abbastanza semplice. Perché lo Stato chiede a me di presentare un certificato che in realtà già ha. Perché pensateci, quante volte vi è successo di dover presentare un certificato di famiglia, eccetera, eccetera, a un privato. Probabilmente mai. Vi è successo probabilmente anche nei KYC, nei sistemi di controllo, che, che ne so, se dovete prendere una nuova, non lo so, registrare un nuovo conto in banca, che vi chiedono magari una bolletta o l'ultimo estratto conto della vostra banca, ma quasi mai vi chiederanno un certificato. I certificati sono una parafilia che viene richiesta dalle amministrazioni pubbliche per fare determinate cose. Ebbene, se allora, a questo punto, i certificati funzionano solo per le amministrazioni pubbliche, mi fa arrabbiare veramente tanto il fatto che adesso siano online. Mi fa arrabbiare tantissimo il fatto che prima dovessi andare nel mio comune a chiedere un pezzo di carta per andare a un altro comune, ad esempio magari fare un cambio di residenza. Mi fa arrabbiare ancora di più adesso il fatto di vedere Mattarella che scarica per la prima volta il suo certificato. Perché? Perché come lo scarica lui e come io ho un'identità che è legata a una carta di identità elettronica, una tessera sanitaria, un codice fiscale, a un identificativo univoco che è similare, anche se non ce n'è uno preciso, a una social security number americano, beh, allora a questo punto io voglio che sia proibito per legge richiedermi qualunque tipo di certificato che l'amministrazione pubblica è in grado di recuperare autonomamente. Lì è la differenza, lì è la vera rivoluzione. Entrare con speed, perché quello sì, c'è necessaria un'autenticazione, sul sito web del comune, richiedere il cambio di residenza e nessuno che possa chiedermi nessuno dei certificati. Perché? Perché in questo modo li hanno già. Basta recuperare. Come li posso fare io? Ok? Se prima non era possibile, perché non c'era una grafe nazionale, perché in realtà i vari comuni non erano legati, bla bla bla, tutto quello che possibile. Adesso che esiste questa possibilità, io voglio che non mi possano chiedere per legge quel certificato, ma che debbano recuperarselo autonomamente senza rompermi le p***e ogni volta. Chiedo troppo? Beh, probabilmente sì, però mi fa davvero, davvero tanto arrabbiare vedere la news che adesso noi sudditi possiamo finalmente richiedere dei certificati che serve ancora allo Stato, che lo Stato, graziosamente, ci consente di scaricare anche online, per fare un po' del lavoro per cui paghiamo direttamente i dipendenti pubblici. E questa cosa veramente, veramente mi manda in bestia. Ma forse, 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 forse è solo una cosa mia, magari voi la pensate diversamente. Raccontatemelo qui sotto nei commenti o invece condividete se siete davvero arrabbiati anche voi come me. Io sono Matteo Flora, mi occupo di migliorare la reputazione e il valore delle aziende con le aziende che trovate qua alla vostra sinistra, mentre invece tre volte alla settimana almeno vi racconto con Ciao Internet come la rete ci cambia. Potete iscrivervi in questo momento facendo subscribe al canale, se no qui trovate il link, se no c'è un gruppo meraviglioso Telegram e un corso gratuito su newsletter con una trentina di conferenze. E anche oggi, come sempre, grazie mille per avermi ascoltato. Ed è stato e parati.